Il collega Daniele La Corte, giornalista e scrittore di saggi sulla resistenza, è stato oggetto di una serie di gravi fatti. Ad aprile le finestre della sua abitazione erano state prese a sassate, l'altra notte gli pneumatici dell'auto della sua famiglia sono stati tagliati e ora i gnoti hanno versato del liquido infiammabile davanti alla casa di campagna dove la corte e famiglie trascorrono il periodo estivo ad Alassio. Fatti molto gravi che Daniele La Corte ha prontamente denunciato al commissariato di pulizia di Alassio che ora sta compiendo accertamenti nella speranza di poter risalire quanto prima i responsabili di questi gesti sconsiderati e preoccupanti. Daniele La Corte, già caporedattore del secolo XIX per la provincia di Imperia, da alcuni anni collabora con Imperia TV dove conduce le rubriche L'Angolo e L'Irriverente. A Daniele e ai suoi familiari va il sostegno della direzione e della redazione di Imperia TV. L'ex ministro e attuale sindaco di Imperia Claudio Scaiola non può essere accusato di aver messo in atto nessuna agevolazione all'Andrangheta e ad associazioni massoniche o segrete. È quanto emerge dalle motivazioni che i giudici di Reggio Calabria hanno depositato relativamente alla sentenza del processo Breakfast che ha visto la condanna fra gli altri dello stesso Scaiola a due anni di reclusione per aver favorito l'inosservanza della pena da parte dell'ex deputato di Forza Italia, Amedeo Matacena, condannato a tre anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa e tuttora latitante. I giudici hanno evidenziato che lo stesso Matacena non aveva alcun ruolo all'interno di organizzazioni mafioso segrete e di conseguenza non vi può essere stato legame in questo senso nemmeno per gli altri imputati al processo. Oltre al sindaco di Imperia i giudici di Reggio Calabria hanno condannato un anno di reclusione anche Chiara Rizzo, ex moglie di Matacena. Le pene erano state poi sospese. L'aggravante del sostegno a un'associazione segreta era stato sollevato dal PM Lombardo nel corso della sua requisitoria ma è stato respinto dai giudici così come in precedenza aveva fatto anche il giudice per le indagini preliminari. I carabinieri del nucleo radiomobile di Alassio coadiuvati dai carabinieri forestali della stazione di Albenga hanno denunciato a piede libero un italiano di 35 anni residente nel Savonese. L'uomo artigiano che si occupa della raccolta di materiale ferroso è stato sorpreso a trasportare sul camion della sua ditta circa 600 kg di metalli in grossa parte costituiti da oggettistica sacra e rivestimenti tombali in ottone e rame provenienti da cimiteri che i carabinieri sospettano di essere di natura furtiva. I militari hanno verificato infatti la mancanza della documentazione relativa alla regolarità del carico e scoperto poi un centro abusivo di raccolta rifiuti che l'artigiano aveva attivato e gestiva in un terreno nell'entroterra di Albenga. Tutto il materiale e il terreno sono stati sequestrati e il 35enne è stato accusato di ricettazione e attivazione abusiva di centro di raccolta per rifiuti. I carabinieri stanno ora compiendo ulteriori indagini per scoprire la provenienza degli arredi tombali rinvenuti e stanno anche verificando eventuali segnalazioni di furti avvenute nei cimiteri del territorio e fuori regione. Onorevole Vazio, da parte delle opposizioni si sono sentite sollevare diverse critiche al governo per aver fatto poco soprattutto per il sistema delle imprese e si è parlato di questo accordo con le banche, del fatto che alla fine fosse un prestito, però lei dice le banche non hanno rispettato i patti, è così? Ma più che non rispettare i patti noi possiamo fermare all'esito del questionario che abbiamo avviato la Commissione Banche, ripeto ricordo a tutti si tratta di una commissione di inchiesta che ha poteri analoghi a quelli della magistratura, ha avviato un questionario inviato a tutti gli istituti bancari per capire e comprendere come le misure disposte dal decreto, legge, liquidità fossero state declinate, fossero state applicate sul territorio. La fotografia che ne abbiamo a fronte di risorse enormi messe a disposizione da parte del governo e oggi potenziate e migliorate dal Parlamento, magari ne possiamo anche parlare di questo, c'è un quadro molto inquietante perché se a fianco a banche che hanno erogato i propri prestiti in tempi ragionevolmente brevi quindi efficacemente e a tassi molto vicini allo zero, altre invece hanno applicati tassi superiori addirittura al 40% del massimo consentito dalla legge e a fronte delle richieste ricevute le hanno validate se non in minima parte. Ci sono istituti che a fronte di 10.000 richieste di erogazione ne hanno istruito e derogate poco più di 40. Ora è chiaro che non se ne può fare di tutto un erbo o un fascio perché non possiamo dire che tutte le banche si sono comportate male ma io credo che abbiamo l'obbligo, l'impegno di fronte alle imprese, di fronte ai soggetti che sono in difficoltà di vederci chiaro perché teniamo conto che imprese, soggetti... Non c'è anche dei provvedimenti nei confronti di queste banche. Ma noi non abbiamo poteri di provvedimenti sanzionatori, quello che noi possiamo fare è consegnare l'attività di chiesta svolta alla magistratura perché faccia quello che deve fare. Mi spiego meglio, se io so ho di fronte a me un'impresa in difficoltà che non ha la possibilità di scegliere altro soggetto che non la banca presso la quale ha ovviamente dei contatti, dei rapporti e gli viene proposto... Gli altri soggetti altrimenti sono la malavita, gli usurai, non dimentichiamo. Capisce bene che se anziché farle l'1%, l'1,20% le applico l'1,80% lei se lo prende perché altrimenti salta per aria. Allora questa sorta di violazione non è una violazione dei patti col governo, è una violazione di legge, punto, perché il decreto legge prevede questo e tra l'altro sono tassi remunerativi, ci sono banche locali anche importanti del nostro territorio che hanno applicato lo 0,90% quindi non stiamo parlando di tassi che non remunerano il capitale e non parliamo di una situazione che vede le banche senza risorse perché la Banca Europea ha messo a disposizione tutte le risorse possibili e immaginabili. Quindi si tratta di violazioni per le quali bisogna vederci chiaro. Bisogna non fare tutto nel buon fascio perché bisogna dire bravi a chi si è comportato bene, aiutato le nostre imprese e invece agire per reprimere quei comportamenti che sono particolarmente odiosi perché compiuti a danni di soggetti deboli in un momento particolarmente delicato. Ecco ma si è sentito parlare di altri stati che hanno mandato praticamente denari a fondo perduto all'impresa, agli imprenditori. Questo in Italia era impossibile, non c'era una risorsa che è il problema. Sono due cose completamente diverse. Noi col decreto rilancio mettiamo a disposizione somma a fondo perduto, lo facciamo per le imprese agricole, lo facciamo per le imprese professionisti, per le piccole e grandi imprese in una quota più o meno variabile a seconda del fatturato. Quella misura di cui stiamo parlando invece stiamo parlando di finanziamenti decisamente più importanti. Ci sono quelli fino a 25 mila Euro, ci sono quelli da 25 mila Euro 800 mila Euro e ci sono quelli superiori a 800 mila Euro. Sono misure che sono finalizzate non a coprire il danno emergente, cioè il danno del fondo perduto per intenderci, ma per rilanciare le attività. Allora sotto questo profilo anche le misure di correzione e potenziamento fatte in Parlamento. Per esempio da 25 l'abbiamo portato a 30 mila, anziché restituire il capitale in 6 anni si potrà restituire in 10. Sono misure che potenziano questo grande strumento di liquidità. È evidente che se mettiamo a disposizione 200 miliardi e poi vengono erogati meno di un quarto di queste risorse e le imprese sono in affanno a respirare, questo diventa un problema importante che dobbiamo ovviamente affrontare e risolvere. La fase più preoccupante l'avremo tra poco meno di una settimana, quando verranno aperti i confini, così almeno si dice, tra regione e regione. La domanda che poniamo è se possiamo essere tranquilli se non ricadremo nel vortice mortale del coronavirus. È in dubbio il fatto che nonostante si continua a dire che gli italiani sono coscienziosi e ligere regole, la movida dell'ultimo weekend ha suscitato e suscita preoccupazioni. Ieri si parlava di un possibile blocco ancora ora tra qualche regione, in attesa di avere dati più chiari dalla protezione civile, vedere se lo sviluppo del virus sia attenuato veramente o meno. Ma Piemonte e Lombardia sembrano ancora sorvegliati speciali e ciò farebbe propendere per un'ulteriore attesa del liberi tutti tra Piemonte e Liguria. Non vogliamo essere negativi, augurandoci che le cose cambino. Immaginiamoci il dopo 3 giugno, se tutti i proprietari di seconde case in riviera si riverseranno sulle nostre strade e sulle nostre spiagge. Siamo veramente preparati, in grado di sopportare l'invasione pacifica senza rischi? Aspettiamo con fiducia. La scienza lo conferma, il nuovo coronavirus sta perdendo forza. Il presidente dei virologi italiani Arnaldo Caruso, che dirige il dipartimento di microbiologia degli ospedali civili di Brescia, ha infatti isolato una variante di SARS-CoV-2 e ha osservato che il virus ormai è debole. Le infezioni sono molto leggere, i tamponi sono appena positivi e anche chi ha una carica virale forte è asintomatico. Mentre i ceppi virali dei mesi scorsi, che abbiamo isolato e sequenziato erano bombe biologiche che sterminavano le cellule bersaglio in 2-3 giorni, questo per attaccarle ha bisogno di 6 giorni. Come per tutti i virus respiratori, è imputabile una stagionalità dell'infezione. Con l'avvio della stagione tardo-primaverile-estiva, questi virus tendono a scomparire, per motivi che ancora oggi non conosciamo di preciso, come pure non sappiamo perché partono a novembre-dicembre. Al via delle telefonate della Croce Rossa italiana, i cittadini individuati nel campione di 150.000 soggetti ai quali verrà effettuato il test sierologico per mappare la diffusione del nuovo coronavirus sul territorio nazionale. Il campione, elaborato dall'Istat, è stato individuato sulla base del genere e suddiviso in sei classi d'età, per regione e per attività lavorativa. I cittadini facenti parte del campione selezionato verranno contattati dalla Croce Rossa italiana sul telefono cellulare. Dopo essere stati contattati per il test sierologico, per eventuali informazioni aggiuntive, potranno rivolgersi al numero 06 55 10 messo a disposizione dalla Croce Rossa. A Milano è vietata la vendita delle bevande d'asporto dopo le 19.00. È una misura decisa dal sindaco Beppe Sala per cercare di far rispettare le normative per la fase 2 ed evitare assembramenti soprattutto nei luoghi della Movida. No al consumo di alcolici. Il divieto di asporto riguarderà non solo i bar, ma anche i negozietti in prossimità, ma non i supermercati. Di fatto quello che viene sanzionato sarà il consumo di alcolici in piedi se non sarà in un luogo dedicato, definito come spazio prospicente al bar. L'arena di Verona non ci sta. Per l'estate 2020 chiede una serie di deroghe. Spettacoli per almeno 3.000 spettatori anziché i 1.000 previsti dal decreto per la fase 2. Minore decurtazione del FUS legata alle produzioni, risorse ad hoc per la specificità dell'anfiteatro e della stagione lirica. Il sindaco della città e i vertici dell'ente scaligero hanno già presentato un progetto in grado di garantire tutte le misure di sicurezza sia per il pubblico che per gli artisti. Sempre più vicino l'accordo tra Paris Saint Germain e Inter per il riscatto di Mauro Riccardi. A sostenerlo è ESPN che ha ribadito come alla fine l'Argentino resterà in Francia. La richiesta dei parigini di ottenere uno sconto sui 70 milioni pattuiti sembra destinata ad essere accolta. Il nuovo punto di incontro, anche vista la crisi economica scaturita dalla pandemia di coronavirus, sarebbe stato trovato sui 60 milioni di euro, 55 di parte fissa più 5 di bonus. Intanto è avviata anche la trattativa con Vandanara, agente e moglie di Riccardi. Per lui pronto un contratto di 4 anni a 10 milioni di euro alla stagione. Giorgio Chiellini nella sua autobiografia è tornato sulla finale di Champions League contro il Real Madrid del 2017 persa a Cardiff per 4-1. Ero convinto che l'avremmo vinta. Un mese prima eravamo nettamente i più forti d'Europa. Le finali per noi arrivano sempre troppo tardi. Non siamo riusciti a gestire la partita. Di quella finale si parlò tanto e vennero fuori delle indiscrezioni su una spaccatura interna allo spogliatoio durante l'intervallo. Perché mai avremmo dovuto litigare dopo aver raggiunto il pareggio? Scrive il capitano Bianconero nella sua autobiografia. La verità è che eravamo solamente stanchi. Siamo rientrati nello stanzone con Mandzukic e Pjanic malandati che quasi non camminavano. Avevamo tutto il fiatone e a parte dirci di non disunirci non abbiamo litigato. Anzi. Dopo aver preso il secondo gol in quel modo da Casemira abbiamo pensato che fosse già finita. Io per primo. E non si fa perché non era assolutamente finita anche se prendemmo due gol in rapida successione. Il terzo è stato da sprovveduti. Mandzukic anticipato. Alexandro infilato e io con Bonucci fermi come mamma Lucchi a guardare Ronaldo segnare. Anche sull'1-3 abbiamo avuto qualche occasione e segnando avremo riaperto tutto perché la Real Madrid può smarrirsi in un momento. Sulla presunta lite tra Bonucci e Dybala o sui malumori con l'allora tecnico Allegri specifica. Qualche giorno dopo Buffon mi chiese se si era perso qualcosa, se quello che leggeva sui giornali fosse successo davvero, magari mentre lui era assente. Gli era venuto il sospetto ma l'ho rassicurato anche se dubbio stava venendo pure a me. Leggende metropolitane non bisogna credere a tutto. Il Gran Premio di Silverson potrebbe ancora disputarsi. Secondo quanto riportato dal Times, infatti, il primo ministro inglese Boris Johnson potrebbe decidere di concedere un'aderoga per il Circus alla quarantena di 14 giorni imposta per chiunque entri in Gran Bretagna. Questo speciale permesso potrebbe essere motivato dalla volontà di Johnson di sostenere il comparto del motosport britannico, autorizzando così una delle competizioni più iconiche del calendario di Formula 1 in programma a grandi linee in due sessioni diverse tra luglio e agosto. Una concessione così però creerebbe un precedente su cui potrebbero far leva molti altri settori lavorativi. Il calendario MotoGP 2020 potrebbe essere stato finalmente deciso, ma è ancora in attesa dell'ufficialità della Dorna, prevista per inizio giugno. La stagione, ritardata e mutilata a causa del coronavirus, prevede doppi appuntamenti per diversi circuiti. Si comincia a Erez della frontiera, dove non solo si prevedono due date, ma due eventi ben distinti con nomi diversi. Il quotidiano iberico AS, infatti, rivela che la location ospiterà il Gran Premio di Spagna il 19 luglio e la settimana seguente il GP di Andalusia. Insieme a Erez, anche Aragon, Barcellona e Valencia ospiteranno un appuntamento doppio, così come il Red Bull Ring e Misano.